Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, oggi ragazzi nuovissima live reaction Fiorentina Roma, crociamo le dita, speriamo bene, turno infrasettimanale e niente dai lasciate 40 live prossima live reaction, mi raccomando, speriamo di vincere la formazione c'è, è tornato con Bulla in difesa, Bruno Perez e Diavara per dare il reato a Carstaff e Villar la partita stessa è cominciata, speriamo bene, speriamo bene dai che si comincia, dagli Roma infatti riguarda di aspettare e si ferma qui per un attimo e ne ricordo di Astori alla quale partecipiamo naturalmente tutti Fiorentina Roma e la profondità staccano prima, non vogliono fare fuori gioco sul movimento profondo di Majoral e permettono l'uscita di Trongoschi dai che si ricomincia, su, speriamo che sia un bel secondo tempo, se stiamo addormentando 1-0 così, sto a mangiare le fragole va a cercare le fragole ragazzo, fa la clip fragole porta fortuna, e allora sì con questa palla che ti arriva dritta dritta in verticale lui, e dai, manco ho visto bene, stavo cercare a tagliare le fragole, che girata di Spinazzola, chi ha messo il cross? Mancini e Spinazzola, tutta l'italiana e pure la fragole sul suo palo è il suo palo, però, guarda che caccia, vede la giro, ma sta bello eh? dai, io spino nooo, sei infortunato pure per i tu nooo, sei infortunato mentre lo riprendeva nooo, non c'era manco bisogno, ma non ce n'era marcato né niente nooo, sei infortunato, non ce n'è mangiato, nooo, sei infortunato, non ce n'è mangiato, nooo, che cacchio fa? nooo, che cacchio fa? un gioco ma fatecelo rivedere fatecelo rivedere io spero che si è perché se non manco lo ripeto fa la rivedere tira ste linee su si 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 piantiamo mamma mia si si diavara bravo bravo gli ha dato la palla e è andato in mezzo si si stiamo ancora lì ci dobbiamo credere sempre ce lo meritiamo di vincere sta partita bravo bravissimo dai cavolo e andiamo tre punti importantissimi dai